È una Giorgia Meloni che non le manda a dire o l'opposizione. Neppure quando si tratta di MES. Dopo aver chiesto la sospensiva di quattro mesi per il DDL di ratifica del meccanismo europeo di stabilità, la Premier risponde alle critiche ricordando che di fronte alla sfida globale tra USA e Cina, che hanno iniettato nelle loro economie liquidità enormi, l'UE non può competere se non lasciando maggiore flessibilità ai propri stati nell'utilizzo delle risorse disponibili. Stesso discorso sul PNRR. Soprattutto tuona intervistata dal Corriere della Sera se smettiamo di fare allarmismo su una questione strategica per la nazione intera e che, nella migliore tradizione dei Tafazzi d'Italia, viene strumentalizzata per attaccare il governo. Noi siamo impegnati per rispondere alle ultime richieste di chiarimenti da parte della Commissione e ricordo che lavoriamo su un piano scritto da altri. Non manca poi la stoccata a chi l'ha preceduta. Anche se senza polemica. Non posso fare a meno di notare che se il lavoro certosino che stiamo facendo adesso, senza alcuna tensione con la Commissione, fosse stato fatto a monte quando i progetti sono stati presentati, avremmo potuto risparmiare molto tempo. E a chi, come la leader del Partito Democratico Ellie Schlein le contesta di vantare in UE amici sbagliati come Orban. Il presidente del Consiglio ribatte. Sulle amicizie sbagliate a livello internazionale mi permetta di non infierire su chi ancora oggi è reticente nel condannare regimi come quelli di Cuba e Venezuela. Chi è in buona fede, conclude, può constatare quanto l'Italia oggi sia centrale e rispettata nei consessi internazionali. Con buona pace delle Cassandre che speravano nell'isolamento.